Si è tenuta qualche giorno fa in piazza dell'incontro la seconda edizione del Festival Canoro di Gioia Tauro, organizzato da Salvatore Parisi con il patrocinio del Comune della Cittadina. Una serata all'insegna della musica e soprattutto dei suoi giovani amanti, che hanno così avuto modo di partecipare a un vero e proprio concorso, in cui la loro esibizione è stata valutata da una giuria competente. Il concorso, presentato da Salvatore Parisi e Tiziana Borgese, che hanno aperto la serata con un'esibizione in coppia, ha visto la partecipazione di più di 20 cantanti, le cui esibizioni sono state intervallate da una serie di ospiti. Bene, questo è il secondo festival che ho voluto organizzare, perché il popolo gioiesi ha bisogno di queste feste, per far sì che soprattutto i ragazzi di Gioia Tauro si possano esibire in queste feste, organizzate in un niente. Il secondo appuntamento è realizzato da Salvatore Parisi, io gli sto dando una mano e lo ringrazio tantissimo per questa esperienza stupenda. Anche Salvatore mi ha chiesto di duettare con lui per un pezzo bellissimo di Giorgia e Bocelli, vi vedo per lei. Spendiamo bene, incrociamo le dita. Questa sera sono in qualità di giurato presente a questa serata, organizzata dall'amico Salvatore Parisi, che spesso e volentieri si spende per la città di Gioia Tauro nell'organizzare eventi. Questo è uno dei tanti che negli anni ha organizzato e non poteva mancare il mio sostegno prima per l'organizzazione e la collaborazione in giuria questa sera. È un concorso che vede protagonisti tanti ragazzi, tanti giovani, che ci auguriamo da questo palco un giorno possano avere miglior fortuna. Abbiamo cercato di dare un contributo affinché la serata uscisse nel migliore dei modi.